Il tuo futuro si aprirà alla grande se non sei il primo a scuola. Puoi davvero guardarti intorno. Cosa posso fare con la mia vita? Forma gruppi di cinque persone che tutti diano lezioni in ogni materia agli altri. Le persone affrontano ogni aspetto della vita così. Esame significa che gli viene la diarrea. Lo so molto bene perché mio fratello gestiva una farmacia a mai solo. Ed esami significa tutti vengono, medicine contro la diarrea e vanno all'esame. Perché altrimenti se la faranno addosso nell'aula degli esami. Perché? E la stessa cosa accade loro se vanno per un lavoro. La stessa cosa accade loro se stanno per sposarsi. La stessa cosa accade. Se la fanno sotto dalla paura per ogni cosa. Questo è perché... Impreparati, non è così? L'unica ragione per cui sei nervoso riguardo qualcosa... Stavo proprio parlando di alcune persone intorno a me. Le ultime tre volte che abbiamo avuto un elicottero qui. Erano tre piloti diversi. Sto lì a guardarli. Sono così terribilmente nervosi. Hanno fatto tremila ore di volo. Io sono solo un pilota da cento ore. Io volo con grande gioia. Volo senza... Nulla di nulla. Al punto che... Quando il mio istruttore negli Stati Uniti è stato intervistato da uno dei nostri... Cosa ne pensi di Sadguru? È stato un buon studente per te? E tutte queste cose. Una cosa che ha detto è stata... La mia unica preoccupazione su di lui è che non sembra aver paura della morte. Loro chiesero, cosa vuoi dire? Disse, anche se spegni il motore, sorride e fa quello che deve fare. Questa è una delle cose importanti negli elicotteri. È l'autorotazione. Cioè spegni il motore e scendi senza motore e atterri. Preparandoti per un'emergenza. Sempre. Per farti capire cosa implica. Nel veicolo di addestramento che pilotiamo. Il motore si spegne. Affinché tu te ne renda conto. Vedi, rendersene conto richiede tempo. Tu voli e voli. Se il motore si spegne, affinché tu realizzi che il motore si è spento, ci possono volere due o tre secondi. Perché il rotore sta ancora facendo rumore. Solo un certo livello di vibrazione è andato. E gli strumenti precipitano, ovviamente. Ma se non esservi gli strumenti e parli con qualcuno e non noti la vibrazione, non sai nemmeno che si è spento. Ma ti dà solo un massimo di sette secondi. Sette secondi è tutto ciò che hai per fare tre manovre importanti. Se non fai quelle tre manovre importanti in quei sette secondi, vali quanto un uomo morto. Puoi goderti l'ultimo volo. Quindi, quando voliamo, senza avvertimento, uno dei test è che spengono il motore. Quindi faccio quello che devo fare. E mi entusiasmo quando il motore si spegne. E ho fatto più di cento atterraggi così. Quindi lui ha detto, sono davvero spaventato per lui, perché non ha paura. Ho detto, questo era anche il problema di mio padre, non solo il tuo. Mio padre ci batteva la testa e diceva, questo ragazzo non ha paura nel proprio cuore. Cosa gli accadrà? Non ho mai capito perché. Perché la paura è una qualifica? Perché la paura è una qualifica? La consapevolezza è una qualifica. La prontezza è una qualifica. La conoscenza è una qualifica. Perché la paura è una qualifica? Quindi se te la fai sotto per il tuo esame, lo farai bene. È così? Se te la fai sotto di andare a un colloquio, dovresti farlo bene. È così? Te la fai sotto di sposarti, dovresti farlo bene. Vedo persone che affrontano ogni cosa così. Che senso ha? Quindi questo accade perché qualcuno pensa, esame di maturità. Cosa accadrà? Il mio futuro? Il tuo futuro si aprirà alla grande se non sei il primo a scuola. Perché allora ci saranno molte opportunità. Se arrivi, se ottieni il 99%, finirai in una facoltà di medicina. O se ottieni il 90%, finirai in un'università di ingegneria. Se ottieni il 65%, la tua vita si aprirà. Puoi davvero guardarti intorno. Cosa posso fare con la mia vita? Ora tutti gli insegnanti stanno soffrendo, Sadguru. Sadguru sta distruggendo tutta la scuola. Quelli di voi che hanno gli esami delle superiori e delle medie. Voglio che gli insegnanti lo facciano o no. Dimenticatevi di loro. Voglio che gli studenti completino il proprio programma e siano pronti per l'esame entro la fine di ottobre. Ok? Entro la fine di ottobre. Devi essere in grado di scrivere il tuo esame comodamente. Se te la fai un po' sotto dalla paura, fatela sotto in ottobre. Te ne daremo un altro a novembre. Lo gestirei un po' più facilmente. Puoi andare senza un tablet. A dicembre faremo altri due esami. Falli. A gennaio giochi e basta. A febbraio guardi solo un po' nel libro. L'ultimo anno di scuola. Ti diverti. Quando arrivano gli esami a marzo ci vai e l'hai già fatto cinque volte. Quindi a dicembre devi essere già stufo di scrivere lo stesso esame cinque volte. Quindi sei pronto per la maturità. L'ultimo anno del liceo e delle medie. Formate gruppi di cinque persone. Devono imparare insieme. Fate i gruppi in modo tale che persone che sono bravi in materie diverse stiano insieme. Che tutti diano lezioni in ogni materia agli altri e gli insegnanti li aiutino. Vedi? Imparare. Per qualsiasi essere umano. Quando impari qualcosa di nuovo, quando realizzi qualcosa che non sapevi, ti dà gioia o dolore? Dovrebbe darti gioia, non è così? È naturale per l'intelletto umano. Se cogli qualcosa che non sapevi, ti rende gioioso. Perché viene affrontato così dolorosamente? Maturità, maturità. Se sai, lo scriverai sbagliato. No. Solo se stai cercando di ricordare per l'esame, potresti scriverlo sbagliato. Cercare di ricordare per l'esame significa sei un dannato imbroglione. Capisci? Vuoi solo ricordare, prendere in giro le persone per un giorno e dire sono passato e poi non sai niente. Hai imparato l'inganno. Non iniziare la tua vita con l'inganno. Non va bene. Non è una buona base per la tua vita. ottenere in qualche modo il 100. Solo perché per un giorno ti sei ricordato qualcosa e l'hai vomitato sulla carta. Questo non è un inganno. Va contro lo scopo stesso dell'istruzione. Non è così? Sappiamo qualcosa. Ecco perché dobbiamo passare alla classe successiva. Non perché in qualche modo abbiamo imbrogliato l'esame. Così siamo passati alla classe successiva. Cosa significa nella nostra vita? Non significa nulla. Non iniziare la tua vita sull'inganno. Non importa ciò che uno pensa di te. La cosa importante è che tu mantenga l'integrità fondamentale nella tua vita. Questo è molto importante per un essere umano. Credimi. Non si tratta di ingannare qualcuno. Di essere migliore di qualcuno. Si tratta di sono qui. Farò il miglior uso del mio tempo mentre sono qui. Farò del mio meglio. Questo è quanto. Non importa che qualcuno lo approvi o disapprovi. E non ci sono due esseri umani che sono giunti uguali. Qualcuno può stare all'ultimo banco, alle superiori, ma essere in prima fila nella vita. Quindi questo non è il fattore decisivo. In ogni posto nella nostra vita. Dalla scuola, all'università, alla professione. Non continuiamo a pensare ed essere gioiosi che qualcuno è dietro di noi o sotto di noi. Perché mai dovresti essere felice del fallimento di qualcun altro? Se sei felice del tuo primo posto, significa solo questo? Non è così? Sì o no? Sei felice del fallimento di qualcuno? Questa è malattia. Devi essere felice di ciò che sai. Devi essere felice della tua esplorazione. Della realizzazione del tuo desiderio di sapere. Dovresti essere felice di questo, non del fatto di essere sopra qualcun altro.